Sì, così potrò rivedere il metà. Bravo tenente, si presenti il primo agosto a Resana, lei deve lanciarsi con un paracadute da un nostro aeroplano. Paracadute? Un aeroplano? Col Capitano Dalmonte concorda il cifrario di comunicazione, destinazione Col del Pell, quota 880 a nord della frazione di Vizza, a metà costa del Col Visentin. Il giorno stabilito per il decollo, il tempo era pessimo, grigio, nero, vento e tempesta di pioggia. Decollano l'8 agosto, trattuoni e fulmi, ma guarda, la via in giù, a catinelle! Leva il tappo della bottiglietta, per farsi coraggio beve un sorso di cordiale e quando meno se l'aspetta, la botola si apre, lui è giù nel vuoto. Cade nel vigneto del parroco di San Martino di Colle Umberto, lontanissimo dal punto stabilito, fortunatamente con alcuni contadini, riesce a stabilire un contatto con sua sorella, Emma e con Maddalena. Eccole, arrivano. Maddalena! Emma! Sandri! Sandri, ma perché hanno scelto proprio te? E hanno bisogno di gente che conosce il posto? Io e voi due? Noi due? Dunque, la patria ha bisogno anche delle donne? Bisogna informarsi sulle sedi dei comandi militari austriaci. Ecco, guarda, questo è un elenco per riconoscere le mostrine dei soldati. Dobbiamo trasmettere informazioni al comando, attraverso piccioni viaggiatori, paracadutati in gabbiette sul col del pelle. I saluti sono veloci. E dopo aver sepolto il paracadute e la divisa e indossato stracci da contadino, corre su per la tana alle tre di notte e sul col del pelle. Da lì Sandro riceve e lancia piccioni con messaggi legati alle tampette. Sulle montagne incontra un gruppo di sbandati di caporetto. E lui li accoglie nel suo gruppo. Le ragazze intanto portano preziose notizie sulla situazione nemica. Ah, a Villa Pasqualis c'è il comando della Sesta Armata Austriaca, Palazzo Luccheschi il comando di tappa, Villa Franceschi il deposito generale di munizioni, a Villa Vettore Costantini il comando del genio.